E' iniziata la tre giorni rinascimentale a Nicosia con l'elezione della Dama Civitas Costantissima manifestazione giunta alla terza edizione. Quest'anno si è svolta in piazza Re Federico nel quartiere di Santa Maria Maggiore. La serata è stata organizzata dall'associazione Da Cosa Nasce Cosi, laboratorio creativo sartoriale che si occupa tra l'altro di riciclo creativo di materiali tessili, un'associazione giovane ma sempre piena di idee e di novità. Hanno presentato la serata in modo professionale Giosi Piras e Nando D'Amico. 8 le ragazze iscritte al concorso, giudicate da 11 componenti della giuria, rappresentanti della Proloco, Moica, Fidapa, Ecomuseo Pedra da Sgotto, Movimento per la Difesa dei Territori, Feder Casalinghe, Nicosia Castrum, Da Cosa Nasce Cosa, CEA, Comitato Donne e dal Sindaco di Nicosia. I criteri di scelta si basavano sull'aspetto fisico, sull'eleganza, nel portamento, personalità, presenza e disinvoltura, buona dialettica e cultura generale. Le ragazze hanno sfilato per quattro volte, nel primo defile hanno indossato i propri abiti. Nel secondo defile hanno indossato gli abiti realizzati da Loredana Nisi per Da Cosa Nasce Cosa. Dopo la sfilata sono state poste le ragazze delle domande sulla storia nicosiana e il test è stato superato brillantemente da tutte le concorrenti. Nel terzo defile hanno indossato gli abiti realizzati da Dina la Greca per Da Cosa Nasce Cosa. E infine nell'ultimo defile hanno indossato abiti di varie epoche storiche offerti dal Moica e dall'Istituto Tecnico Commerciale Alessandro Volta di Nicosia. Dopo ogni defile i ragazzi si sono sottoposti alla votazione della giuria con l'assegnazione di un voto da 7 e 10 punti per ciascun giurato. Tra una sfilata ed una votazione non sono mancati i momenti musicali affidati alle splendide voci di tre cantanti che hanno partecipato quest'anno all'edizione di Voci Nostre. La prima ad esibirsi è stata la vincitrice Valeria D'Alessandro, poi è stata la volta di Simona Vitale, giunta al secondo posto e per ultima Greta Alessi che si è classificata al terzo posto in questa riedizione del Festival Canoro. Esibizione con un defile di abiti e di acconciature particolare anche di uno degli sponsor della serata, la scuola di estetica CEA. Il concorso prevedeva tre finaliste ma c'è stato un ex segue e di conseguenza sono state chiamate sul palco quattro ragazze che si sono contese con un'ultima sfilata il titolo di dama Civitas Costantissima Nicosia 2016. A vincerlo ad un soffio è stata Roberta Sorbera che ha battuto sul filo di lana Chiara Carosia a programmare la vincitrice Nando D'Amico. Il sindaco di Nicosia invece ha fatto indossare la fascia alla vincitrice Roberta Sorbera che ha deliziato ancora una volta il pubblico numeroso con un'ultima sfilata. La dama Civitas Costantissima Nicosia 2016 sfilerà domenica nel corteo storico e successivamente rappresenterà la città nei diversi cortei nei quali Nicosia sarà invitata a partecipare.